Si terrà venerdì alle 17.30 presso la Sala Conveni dell'ex tabacchificio Centola il primo consiglio comunale di Ponte Cagnano-Faiano dopo le elezioni del 10 e 24 giugno. La seduta sancirà l'insediamento ufficiale dei consiglieri eletti e del sindaco Giuseppe Lanzara, chiamato a pronunciare il suo giuramento e a comunicare ai componenti dell'Aggiunta, già presentati alla città venerdì scorso. Contestualmente verrà eletto anche il presidente del Consiglio, favorito per ricoprire tale carica il 32enne Dario Baccaro, candidato più votato della lista sveglia. A fare il loro ingresso nell'assise, al posto di due consiglieri nominati nell'esecutivo, il primo dei non eletti del PD, Alessandro Maisto, che sostituisce il neoassessore Carmine Espina, e la prima dei non eletti di Campania Libera, Rosa Lembo, che subentra al posto del nuovo vicesindaco Michele Di Muro.